Ma ciao a tutti! Oggi vedremo dei salvataggi di animali incredibili che vi faranno venire voglia di andare là fuori e compiere le stesse gesta facendo una caccia al tesoro per trovarne uno, perché ammettiamolo internet è bello specialmente per questi video che mostrano persone con una gentilezza ormai rara di questi tempi. Rimanete fino alla numero 1 assolutamente per vedere un salvataggio che potrebbe farvi cambiare idea sull'umanità ormai criticata da tanti. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Telegram ufficiale per ricevere errori di prezzo e sconti assurdi su prodotti che nei negozi costano quanto un rene, quindi se siete seduti o sdraiati o sedurraiati, cominciamo! Numero 10 È davvero comune trovare animali ridotti malissimo, specialmente cuccioli che non resistono moltissimo senza i genitori che tendono a volte ad abbandonarli. In questo caso un piccolo gattino è stato ritrovato in un cespuglio davanti alla casa di un ragazzo che non ci ha pensato due volte e l'ha portato in casa, pulendolo e aspettando che ricominciasse a camminare. Sicuramente non è successa una bella cosa e sicuramente era lì da un po'. Visto che faceva fatica a reggersi sulle sue zampe e ad aprire gli occhi. Gli ha dato da mangiare un po' di carne e alla fine il piccoletto si è ripreso cominciando pure a darsi una pulita. Chissà cosa sarebbe successo se fosse arrivato un po' più tardi. Numero 9 L'inverno è un momento molto difficile per gli animali. Non sono abituati come noi a usare mille tipi di accessori per camminare e correre anche sulla neve come se non ci fosse un domani o a tirarsi le palle di neve. Loro in inverno affrontano situazioni estreme di sopravvivenza. Beh magari un po' meno per gli animali domestici ma anche essi senza volerlo si fanno fregare alla grande da madre natura. Come questo adorabile labrador nero di 9 anni chiamato Hardy. Era la sua solita passeggiata solitaria quando all'improvviso è rimasto incastrato. Dentro il lago in mezzo al ghiaccio il tutto è successo in Inghilterra a Northumberland. Beh non era proprio una passeggiata solitaria ma i padroni gli lasciano molta libertà quando si tratta di quella zona. In quel posto li toglievano il guinzaglio e lo facevano saltare e correre come voleva ma stavolta si è rivelata una mossa azzardata. Fortunatamente l'aiuto dei pompieri è stato rapido e con un gancio hanno risolto la situazione. Numero 8 Mi raccomando però non è che ora se vedete un animale in pericolo dovete avvicinarvi senza pensarci due volte. Alcuni sono abbastanza pericolosi e si sentono a disagio vicino a un essere umano. Ma non a disagio come quando la cassiera ti passa la roba alla velocità di Sonic alla cassa e tu devi per forza imbustare e prendere spazio al prossimo cliente creando una situazione che nemmeno Trump con l'Iran. No no, quando gli animali si sentono a disagio e quindi pensano di rischiare qualcosa tendono a essere cattivelli. È normale credo, loro nascono con l'istinto di sopravvivenza non come noi umani. Eppure quest'uomo ha voluto salvare questo ariete agitato e disincastrarlo dall'albero a tutti i costi. Alla fine ce l'ha davvero fatta e fortunatamente l'animale è solo scappato io, senza creare problemi. Numero 7 Come detto prima il freddo è il nemico mortale di molti animali che sono anche costretti ad andare in letargo, ma questa è un'altra storia perché se parliamo di letargo ci vorrei andare pure io. Qualcuno con me? No? Ok, continuiamo? In Siberia le temperature spesso raggiungono i meno 45 gradi centigradi e non si scherza, specialmente a gennaio un momento in cui molti cervi rimangono incastrati dentro laghi ghiacciati, che nemmeno in Frozen. Fortunatamente in questo caso alcuni passanti o esploratori o chi se ne frega hanno deciso di fermarsi e collaborare per tirare fuori l'animale, il prima possibile che stava per fare una bruttissima fine. Ma non solo, vedendo che non si riprendeva più lo hanno portato a casa di uno di loro e mettendolo in un capanno lo hanno riscaldato come si deve. Dopo una notte è riuscito a saltare di nuovo nel bosco, speriamo per lui che non scivoli più in situazioni del genere. Numero 6 Non siamo soltanto noi a rimanere paralizzati o perdere una parte del nostro corpo o della nostra mente, anche gli animali sfortunatamente possono avere brutte disavventure. Come per questo cane che era stato investito da un'auto molti mesi prima, rimanendo paralizzato per metà, perdendo l'uso delle zampe posteriori. Ma la storia non è finita. Un'associazione chiamata Animal Aid Unlimited India, che ha anche un bellissimo canale YouTube, si occupa di aiutare gli animali in un bruttissimo stato. Non semplici randaggi, ma cani che magari hanno perso la mobilità che avevano un tempo come Giorgi. Questo è il nome che gli hanno dato. Hanno dovuto catturarlo in modo un po' brusco, ma l'importante è stato il risultato finale. Nonostante i danni ai nervi di solito siano permanenti, hanno continuato a fare fisioterapia e dargli sostegno ogni giorno per cercare di farlo correre di nuovo. E ci sono riusciti! Ora è felicissimo come una volta e si fa carezzare da tutti il nostro Giorgi. Davvero un gesto ammirevole. L'associazione ha pubblicato i video completi sul canale, di cui trovate il nome in basso a sinistra e vi consiglio assolutamente di vederli. Numero 5 Una cosa importante che poche persone capiscono è che una volta preso un animale bisogna darsi da fare per tenerlo non è mica un giocattolo. Per questo motivo a volte troviamo molti randaggi che un tempo ovviamente non lo erano. In questo caso un team chiamato Cole & Marmalade, famoso anche su YouTube per i salvataggi di gattini, ne ha trovati 40 o più in una casa, a quanto pare abbandonata in condizioni terribili. Ma davvero terribili! Hanno dovuto indossare delle tute bianche per avvicinarsi agli animali pieni di insetti di ogni genere. E tanto altro. Non si sa di preciso cosa sia successo, ma a quanto pare ricostruendo in parte le testimonianze dei vicini, i vecchi proprietari avevano abbandonato i loro gatti domestici che con il tempo forse hanno cominciato a riprodursi sempre di più. Arrivando a un numero altissimo. Dopo otto mesi qualcuno ha chiamato appunto questo gruppo di volontari e ora vivono in alcuni rifugi e famiglie. Numero 4 Durante i primi periodi in cui erano scoppiati gli incendi nelle foreste amazzoniche, moltissime, ma moltissime, erano le fake news e immagini in giro. Ci crediate o meno in tanti cercavano l'immagine a calappia like più bella per diventare famosi su Instagram o qualunque altro social. E quindi in pochi verificavano la fonte vera e propria da cui venivano presi i media. Perfino Leonardo DiCaprio e Cristiano Ronaldo erano inciampati in questa cosa mettendo delle foreste bruciate a caso anni e anni fa con incendi ormai spenti sui loro social. Ma la cosa più sorprendente era questa foto. Un giaguaro che abbraccia un uomo come se fosse stato appena salvato. E in effetti era così. Ma non c'entrava niente con gli incendi. E' stato salvato dal Jungle Warfare Training Center. Si tratta di un'organizzazione militare che prevede l'addestramento di soldati. Durante un'esercitazione il giaguaro morente venne notato e aiutato dopo essere stato trasferito in un altro ambiente. Numero 3 Non importa che dimensioni abbia l'animale. Se è in pericolo alcuni cercano di salvarlo con tutto il necessario. Una madre e il suo cucciolo di elefante sono rimasti incastrati in una pozza. Risalire per questi animali è tosta a causa della stazza e stavano per finire malissimo. Fortunatamente qualcuno si era accorto del pericolo e senza pensarci due volte ha chiamato i suoi amici a raccolta per trovare un piano. Non potendoli giustamente sollevare, visto che gli elefanti africani della savana da adulti raggiungono le 6 tonnellate, hanno deciso di utilizzare una ruspa, ma non nello stile Salvini. Hanno creato un passaggio per permettere a questi animali di uscire sani e salvi, che alla fine se ne sono andati. Guardate quanto è adorabile quel cucciolo, cavolo! Numero 2 Prima di concludere eccovi un video che vi farà capire che l'umanità non è del tutto sfacciata. Questa donna è stata forse il primo simbolo di speranza in un momento in cui gli incendi in Australia avevano fatto perdere molta di questa speranza alle persone. Aveva visto un koala che stava soffrendo davvero tanto e ha deciso di salvarlo senza pensarci due volte. L'animale soffriva moltissimo e lo si poteva capire dai versi. Sfortunatamente però Lewis, questo il nome dato, è morto qualche giorno dopo in ospedale. Ormai era troppo tardi. Ma nessuno si dimenticherà mai il gesto compiuto dalla salvatrice e l'incredibile forza dimostrata dal koala per esistere fino alla fine. Numero 1 Questa storia è parte di uno dei tanti disastri causati dal petrolio. Una nave turca si arenò lungo le coste sudafricane nel 2009, rilasciando una quantità di petrolio disumana. Nel 2012 la situazione era ancora ad un punto morto. Tantissimi pinguini erano ricoperti e facevano una brutta fine a causa di ciò. Una donna di nome Diane de Napoli aveva chiamato a sé alcuni volontari per fare una bella doccia a questi poveri animali e in 12.500 si presentarono. Questo fu considerato uno dei salvataggi più grandi e incredibili di animali nella storia. Non erano persone in cerca di qualcosa. Volevano aiutare, non gliene importava niente di ricevere qualcosa in cambio. Sapete come hanno fatto? Hanno preso uno ad uno ogni singolo pinguino, impiegando ben tre mesi di lavoro intenso per riuscire a rimediare agli errori di altri. Con questo concludiamo. A volte c'è bisogno di un piccolo aiuto da parte anche di noi esseri umani per preservare le vite di migliaia di milioni di miliardi di specie sul pianeta. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.